Grazie allo Zittaco che ci ospita, a cui faccio ovviamente tutti i miei auguri e grazie alla libreria Amanda, la libreria di Legnano perché poi dobbiamo sempre ricordarci che le librerie fanno parte del nostro paesaggio democratico, è difficile immaginare un paese senza pensare quanto siano importanti questi luoghi, io voglio dire una delle cose più belle per me di avere scritto un libro, intanto qualche giornalista mi dice ma ci parli un po' del suo ultimo libro, in realtà il primo, quindi scodarsi che sarà anche l'ultimo ma scodarsi no, ma comunque non avevo esperienze precedenti, una delle cose più belle è il fatto di girare per le librerie, le librerie indipendenti in modo particolare, non hanno una vita sempre facilissima però sono in tante parti d'Italia un punto di aggregazione civile, democratica, un po' come le edicole, come i circoli culturali, come i circoli di partito, insomma fanno parte di un paesaggio che vorremmo evitare di perdere, quindi grazie a voi, grazie al sindaco e grazie a voi immaginato il sottotitolo di questo libro in cui c'è scritto da dove ripartire per tornare a vincere, ma insomma sembra una roba da chiamare un'ambulanza a novembre a dire ripartire per tornare a vincere, la discussione pubblica era sulla morte del PD, lo scioglimento del PD, l'inutilità di avere un partito di sinistra eccetera. Adesso siamo ancora in convalescenza, intendiamoci, abbiamo davanti una strada molto lunga e complicata, però una cosa che è fondamentale per una democrazia che funziona, cioè che ci sia una possibilità di un'alternativa, in questo momento comincia piano piano, piano piano a intravedersi e quindi questo sottotitolo è meno vellitario di come poteva sembrare quando è stato scritto, ripeto, strada lunga però prima tu parlavi del fatto che qui ci sono state le primarie, beh insomma questa cosa del 1.600.000 persone che hanno partecipato a questa iniziativa, a questa scelta, beh è stata una bella boccata di ossigeno per il PD, anche qui come al solito bisogna vedere come la vedi, se la vedi come una cambiale in bianco sei matto, se invece la vedi zingeretti tutte le sere devi vedere questo 1.600.000 creditori che c'è davanti, cioè persone esigenti che chiedono qualcosa e allora è una sfida, è uno stimolo ed è una spinta effettivamente per tornare a vincere. Io penso che non dobbiamo vederlo come una cambiale in bianco ma dobbiamo vederla come una richiesta molto esigente di un pezzo importante di cittadini italiani, sociologo, politologo, professore che scrive su Repubblica, che si chiama Ilvo Diamanti e che ha coniato questo termine che è abbastanza inconsueto, sostanzialmente vuol dire due cose credo, primo prendere molto sul serio la sfida e anche in fondo la minaccia che viene dal nazionale populismo, non sottovalutarla, non immaginare che sia un palloncino che si sgonfia in poche settimane perché non è una cosa soltanto italiana, non è una cosa nata ieri, adesso in questi giorni si sta consumando la fase finale di questa vicenda inglese di Brexit, quella è stata una delle prime manifestazioni rilevanti dell'impatto di questa onda populista o nazionalpopulista se volete, era troppo lungo scrivere nazionalpopulista e poi il titolo forse vuol dire anche un'altra cosa, cioè prima che la devi prendere sul serio e devi capire che è una minaccia consistente, non una cosa effimera e destinata a sgonfiarsi subito, impopolista vuol dire per me anche un'altra cosa, forse un po' più controversa, un po' meno evidente e cioè un messaggio rivolto a noi, io penso che noi che populisti o nazionalpopulisti non siamo, dobbiamo evitare di inseguire quest'onda, di cercare di cavalcarla, di imitarne i modi di fare politica, i modi di comunicare, evitare di fare il populista rivittacce come dice il popolo interno? primo perché non saremo capaci, non è il nostro mestiere e secondo perché io non credo che sia giusto ridurre la politica a uno scontro tra opposti insulti, opposte semplificazioni, opposte demonizzazioni dell'avversario, la politica è qualcosa che richiede conoscenza dei problemi, compromessi, fatica come sanno i sindaci, però se invece la immaginiamo solo come slogan, insulti, semplificazione dei problemi complicati non andiamo lontano come paese e comunque noi di sinistra, noi di centro-sinistra perdiamo. Sì è un grande privilegio quello di fare il ministro degli esteri, obiettivamente, non direi lo stesso del presidente del consiglio perché diciamo è abbastanza stressante come mestiere, non perché il ministro degli esteri non sia un mestiere, è stressante naturalmente dipende anche dal rapporto che uno ha con gli spostamenti aerei perché come ricordava prima la nostra intervistatrice, io avevo fatto calcolare da qualcuno del gabinetto della Farnesina gli spostamenti e alla fine in poco più di due anni abbiamo fatto 720-730 mila chilometri, il che vuol dire in effetti mille chilometri al giorno compreso per agosto, natale, capodanno quindi più di mille chilometri al giorno di media e però ti fa due o tre grandi regali, il primo naturalmente è di occuparti di cose importanti per il tuo paese perché una su tutte forse quella che è il dossier internazionale per noi più delicato oltre a quelli vari europei che è il dossier della crisi libica, della crisi dell'instabilità della Libia, è stato un dossier su cui io ho lavorato moltissimo, ho avuto la fortuna di avere una straordinaria collaborazione da parte degli Stati Uniti e in particolare di un segretario di Stato con il quale siamo diventati poi molto amici, ci vediamo ogni tanto anche a Roma in trattoria in questi mesi e che si chiama John Kerry, un personaggio che pensate per 40 mila voti non diventò presidente degli Stati Uniti nel 2000 o 2004, adesso non mi ricordo e lui diede un grande aiuto e riuscimmo a fermare una guerra civile e a costruire un equilibrio molto precario, molto instabile e vi devo dire per fare un accenno di attualità che io sono molto preoccupato dal fatto che questo risultato fragile e instabile oggi sia rischi di essere messo in discussione perché l'Italia si è molto isolata negli ultimi mesi a livello internazionale, si è fatta un sacco di nemici e siccome io non credo a questa storia di molti nemici molto onore soprattutto nelle questioni di politica internazionale, corriamo il rischio di essere di nuovo in una crisi di instabilità di quel paese che ci può danneggiare non solo per i nostri interessi economici, Lenin è molto importante, la Libia per Lenin e per il petrolio in Italia, ma i nostri interessi strategici, la questione migratoria eccetera eccetera, quindi hai l'occasione di occuparti di cose importanti ma hai anche l'occasione, questa veramente unica, di vedere l'Italia da fuori, di vedere come in 80-90 paesi quanti ne avrò visitati in quel periodo, ovviamente li conoscevo già altri, quando te ricavi da andare in Mongolia, no io ho inaugurato l'ambasciata italiana in Mongolia a Ulaanbaatar, pensate che il presidente della Mongolia in quell'occasione quando ci sono queste visite politiche, diplomatiche c'è uno scambio di doni e noi di solito regaliamo un po' un portacenere e cose così, il presidente della Mongolia mi regalò un cavallo, un cavallo che tra l'altro si chiamava Marco Polo ed era un problema diplomatico poi capire come gestire il cavallo, poi l'ho regalato dall'ambasciatore quindi starà lì in Mongolia, però diciamo quindi vai anche in paesi nei quali da turista o anche da imprenditore è difficile andare e da questi paesi vedi come viene considerata l'Italia e vi devo dire che in generale la cosa che ti colpisce di più è quanto l'Italia sia amata e invidiata, contemporaneamente le due cose, noi abbiamo scoperto negli ultimi dieci anni perché non è andata così nei primi decenni del dopoguerra che la crescita economica che comunque resta fondamentale, intendiamoci il fatto che adesso stiamo andando verso la crescita zero non è una buona notizia, è una notizia catastrofica, però come si diceva a scuola la crescita economica è una condizione necessaria ma non è sufficiente e questo è anche stato uno degli errori che abbiamo fatto noi con i nostri governi, di un po' accontentarci troppo di vedere risalire, rifiorire per fortuna il PIL, i numeri eccetera, perché è successo come tu ricordavi che sì l'economia è cresciuta ma le diseguaglianze per la prima volta non sono diminuite ma sono aumentate, valeva nel dopoguerra, c'era una famosissima frase di John Kennedy che diceva l'onda di marea fa alzare tutte le barche e lo diceva per dire all'America negli anni, negli primi anni sessanta guardate che con la crescita economica andrà meglio a tutti, andrà meglio ai ricchi ma andrà meglio anche ai poveri, i ricchi diventeranno più ricchi e i poveri meno poveri e da noi è successo non in Italia solo, anzi soprattutto negli Stati Uniti tra l'altro negli ultimi dieci anni con quest'ultima fase di crescita economica che le differenze invece di ridursi grazie alla crescita aumentavano grazie alla crescita, i ricchi diventavano sempre più ricchi e le persone che non stavano bene, che erano in condizione di povertà diventavano sempre più poveri. Questo deriva in parte anche da questa gigantesca incognita dell'innovazione tecnologica digitale perché mentre nelle precedenti rivoluzioni industriali noi sappiamo come le cose sono andate a finire sappiamo che c'è stato un momento di grande preoccupazione quando si è nata la macchina a vapore o è arrivata l'elettricità o è stata inventata la catena di montaggio, ogni volta c'era la paura che si perdessero posti di lavoro e ogni volta quando si sono tirate insomma si è visto che alcuni se ne sono persi, altri ne sono arrivati e il saldo è stato che c'è stato più lavoro di quanto ce ne fosse prima. Adesso con digitale, robotica, intelligenza artificiale c'è un gigantesco punto interno. Se c'è qualcuno nel mondo che vi dice no state tranquilli andrà a finire come con la catena di montaggio il mio consiglio è prendetelo con le modi. Non perché io sia convinto dell'opposto che aumenteranno i lavori ma perché non lo so. Cioè è una cosa talmente virgolette rivoluzionaria che dobbiamo ancora prendergli le misure. Di sicuro c'è il rischio di rendere più fragili e più precari moltissimi lavori. Di sicuro c'è il rischio di dequalificare alcuni lavori. Gli inglesi che inventano sempre termini hanno coniato il termine cyber-tariato, diciamo il proletariato cibernetico. Per dire, si riferiscono a figure di persone che lavorano con i computer ma fanno lavori che sono talmente ripetitivi, fanno praticamente data entry dalla mattina alla sera che il vecchio lavoro, non so, quando ero giovane si chiamavano impiegati di concetto, al limite dell'impiegato di concetto faceva un lavoro senza computer ma che comunque richiedeva un tasso di relazione con il pubblico, di creatività tra virgolette che rendeva quel lavoro meno dequalificato. Quindi abbiamo scoperto che la crescita può aumentare le diseguaglianze se non si interviene. Abbiamo scoperto che il lavoro è molto fragile e quindi o ci poniamo il problema della competitività nell'innovazione tecnologica della nostra economia oppure finiamo in serie B e avremo meno lavoro di qualità e abbiamo scoperto che la sostenibilità ambientale di questa crescita è diventata un ostacolo terrificante. Quindi tre grandi incogni e poi c'è un'altra cosa fondamentale che questa veramente ritengo molto grave sia stata abbandonata dall'attuale governo e che è l'investimento sul futuro, sull'innovazione. Torniamo un attimo in due secondi al discorso di prima, innovazione, intelligenza artificiale, uso degli algoritmi, robotica, tutte cose in cui l'Italia non è affatto indietro. La nostra manifattura è piuttosto avanzata rispetto alla concorrenza in queste cose. Però a rimanere indietro ci vuole un attimo, quindi il problema è di continuare a investire. Noi avevamo fatto un programma che si chiamava Industria 4.0 che nei due anni di sua applicazione, 2016-2017, due anni e mezzo, ha avuto molto successo, le imprese hanno investito tantissimo grazie a queste facilitazioni, erano 10 miliardi in tre anni e sono stati smontati. Guardate che noi questa roba la paghiamo perché io non voglio essere impopolare dicendo questo, ma non ci illudiamo che difendiamo la qualità del lavoro nell'era digitale attraverso soltanto l'azione sindacale, la protezione dei diritti di chi lavora. Il problema purtroppo dell'Italia è che mentre con i nostri governi, fermo restando che la dinamica franco-tedesca è una dinamica storica che tu non riuscirai mai a incrinare, però l'Italia ha fatto la parte di essere il terzo soggetto, sia pure un po' discosto rispetto ai primi due. E il presidente francese tra l'altro era molto interessato a questa cosa, avevamo messo in piedi un trattato bilaterale tra Italia e Francia, il trattato del Quirinale si chiamava per bilanciare quello dell'Eliseo tra Francia e Germania, che serviva a noi ma serviva anche a Macron per bilanciare i suoi rapporti con la America. E noi se pensiamo che i nostri alleati siano l'Ungheria e la Polonia, auguri, noi non abbiamo nessun interesse comune con l'Ungheria e la Polonia, nessuno. Anzi sono tra i più feroci castigatori dal punto di vista dell'austerity e dei bilanci pubblici, in più sono dei beneficiari netti dell'Unione Europea, mentre noi siamo dei contributori netti, cioè sono paesi che prendono più di quello che danno, mentre l'Italia come la Francia, la Germania, l'Olanda è tra quei paesi che dà più di quello che prende, quindi noi non dovremmo avere nulla a che vedere con questi, io li rispetto naturalmente, ma nulla a che vedere. Se noi ci separiamo dai paesi con cui abbiamo interessi comuni, che sono i paesi del sud Europa fondamentalmente e pensate che i sette paesi del sud Europa oggi sono, quando escono gli inglesi, sono il 52% dell'economia europea, quindi non sono un gruppetto di poveracci a cattoni, sono più di metà dell'economia europea, Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Malta, Cipra, sono più di metà dell'economia europea, noi dovremmo stare con quelli e invece stiamo con paesi che hanno interessi completamente opposti ai nostri e su queste scelte finanziarie seguono la gente. Ci sono tante cose di cui sei contento, però la cosa di cui vado più fiero se vogliamo è stata quella di, in un momento veramente difficile nel paese, perché io sono diventato primo ministro per caso e non in seguito a una vittoria elettorale ma in seguito a una pesantissima sconfitta elettorale nostra. Ciò nonostante sono abbastanza orgoglioso del fatto di aver svolto quel ruolo avendo tutto sommato una funzione rassicurante nei confronti del paese. Un po' mi hanno anche sfottuto per questa cosa, a Roma mi chiamavano Ermoviola, no? C'è quello lì, lento, anche probabilmente facendo paragoni rispetto a Matteo che era ipercinetico. Però io penso che l'Italia avesse bisogno in un passaggio così difficile di rassicurazione e penso che la funzione di chi governa oltre agli atti e le decisioni importanti che prendi, io sono addirittura orgoglioso di aver salvato delle banche, di durarsi, molti la considerano un obbrobrio, io penso che sia stata una cosa sacrosanta e non facile da fare. Però nell'insieme penso di essere riuscito a rassicurare un pochino i nostri concittadini. Penso che la funzione di un primo ministro che riesce a rassicurare sia pure per un periodo delimitato di tempo è una cosa di cui puoi essere orgoglioso.